Riva dunque anche per noi il momento di affacciarsi su HTC One M9. Per chi non lo conoscesse è il nuovo smartphone di casa HTC. Stiamo parlando di un telefono che è l'erede di HTC One M8 ma strizza anche l'occhio ad HTC One M7. Infatti quando lo prendiamo in mano essendo un pochino più stretto di soli 0,2 mm però si sentono tutti di HTC One M8 questo M9 porta davvero un grip ma un materiale ancora più bello rispetto ad M9 ed M7. Abbiamo questo doppio colore argento con rifiniture laterali oro che fa sì che questo smartphone sia uno dei più belli per il momento sul commercio. HTC One M9 è stato molto chiacchierato in primis per la sua fotocamera non ci sono più l'ultrapixel per quella posteriore si passa a un sensore Toshiba da 20 megapixel e riportando anche una fotocamera sempre ultrapixel però per le nostre selfie. La fotocamera è uno dei punti base di questo HTC One M9 che affronteremo al meglio all'interno della nostra videorecensione. La parte ardua e la parte grip quello che noi sentiamo una volta che prendiamo in mano HTC One M8 sono sensazioni senza altro positive. Positive dai materiali, positive anche dal touch and feel. Un pelino più stretto 0,2 mm abbiamo detto fanno sì che davvero è uno smartphone portatile 5 pollici da un bellissimo display e da queste casse frontali sempre boom sound che attraverso l'impianto Dolby surround portano un suono davvero eccezionale. Abbiamo anche la nuova HTC Dot View Cover migliorata rispetto al passato. Noi vi aspettiamo all'interno dei commenti mi raccomando cliccate mi piace e ci sentiamo al prossimo video.